Cerchi un TransPallet? TransPalletItalia.com E' in grado di fornirti un'ampia gamma di TransPallet manuali e piattaforme carrellate Piattaforme carrellate di tutte le portate Con il sollevamento idraulico TransPallet manuali TransPallet lunghi TransPallet larghi TransPallet frutta TransPallet da 800, da 1,50 m Da 2 metri, da 2,5 m Producciamo anche i TransPallet su misura TransPalletItalia.com Ti offre anche carrellate di elevatori manuali per scaricare il furgone o caricare il camion Carrellate di elevatori Sollevano 1,60 m 2,5 m 3 m Comportate variabili dai 1.000 ai 1.500 kg TransPalletItalia.com Il tuo punto di riferimento per il TransPallet in Italia Visita il sito subito Visita il sito subito Per il passare il sito subito Per il segno di aca, da 1,50 m Sì Per il segno di aca, da 1,50 m